Finalmente inizia il processo anche se per me dovrebbe finire oggi. Ha detto così Antonella Leardi, la mamma di Ciro Esposito, il giovane tifoso del Napoli ucciso con un colpo di pistola lo scorso 3 maggio, a poche ore dalla finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Napoli, disputata a Roma. Sotto processo anche per Rissa un tifoso partenopeo, Gennaro Fioretti, il quale faceva parte del gruppo che con Esposito si avventò contro Gastone dopo il suo assalto ad un pullman di tifosi nella zona di Viale Tordiquinto. In aula è presente anche la mamma di Ciro. La signora Leardi, arrivata nell'aula bunker di Rebibbia per seguire la prima udienza del procedimento a carico di Daniele De Santis, ha poi aggiunto Ormai i fatti sono evidenti, sono certa che la giustizia trionferà. Per quanto riguarda gli striscioni ingiuriosi nei suoi confronti apparsi nel corso di una partita di campionato nel disputato nella capitale qualche mese fa, Leardi ha fermato non importa degli striscioni e dei core allo stadio, sono una mamma che sta facendo di tutto per eliminare la violenza negli stadi. Queste persone devono solamente vergognarsi, piuttosto dovrebbero unirsi a me in questa lotta che sto portando avanti. Il legale della famiglia Esposito, Angelo Pisani, ha annunciato che oggi presenterà la richiesta di costituzione di parte civile della Municipalità di Scampia, quartiere di Napoli, dove Ciro viveva. Il legale, accompagnato dai genitori di Ciro, ha poi affermato chiederemo che il ragazzo sia dichiarato vittima della criminalità organizzata. Lo sport non ha alcun collegamento con questi assassini e lo Stato si deve assumere la responsabilità per quanto accaduto.